Voglio provare a creare uno schizzo 3D di un tavolino vuotabile. Allora, vado a creare schizzo 3D, schiaccio rettangolo centrale, mi metto qui e mi metto, perché voglio col tasto centrale mi sposto, voglio fare il rettangolo parallelo all'asse ZX. Dunque, schiaccio il mio tab e scelgo questo rettangolo qua. Vado a quotare, metto 100 e metto poi 200. Per renderlo fisso, schiaccio qui e dico che è lungo l'asse X e schiaccio qui e dico che è lungo l'asse Z. A questo punto diventa nevo. Vado a disegnarmi i piedi, metto col tasto tab, lo faccio diventare, si vede l'icona gialla lungo l'asse delle Y, schiaccio, schiaccio lungo l'asse delle X, schiaccio così e schiaccio di nuovo questo punto. Metto linea lungo l'asse Y e vado a quotare. E metto, per esempio, 60. Questo lo faccio diventare di costruzione. Idem, faccio per le altre. Schiaccio così. Vado giù verticalmente. Esco lungo l'asse X e vado a schiacciare, sempre col tasto sinistro sul punto. Questo lo metto sull'asse verticale e questo lo faccio diventare di costruzione. A questo punto posso schiacciare questo, control, questo e lo metto uguale. Vado a schiacciare, a disegnare un'altra linea, quella centrale, schiaccio, è orizzontale, è verticale, poi vado a quotare e metto, per esempio, 150. Adesso vado di nuovo a prendere il mio rettangolo, schiaccio, faccio come prima, schiaccio sul centro, mi sposto e col tab schiaccio, scelgo un piano parallelo al piano ZX, schiaccio e metto questo, control, questo, lascio andare e metto uguale. E questo, control, questo, lascio andare e metto uguale. A questo punto, sposto leggermente, devo andare a fissare questo piano qua. Posso disegnare questo, lungo l'asse delle Z, ok, schiaccio e vado a prendermi poi il mio punto medio. E vado poi a selezionare che questo è verticale. Poi vado a prendere il punto centrale e prendo il punto intermedio. Vado a prendere poi il punto intermedio di questo e vado poi sul punto centrale. Questa qui posso cancellarla, cance, e vado a mettere le quote. Da qui a qui posso andare a mettere per esempio 80. E poi da qui a qui, metto per esempio un altro 80. Ok? A questo punto, quasi quasi, vado a mettere questo 70. 80, ok, per accentuare l'inquinazione. A questo punto mi conviene disegnare una riga, partendo da questo punto, verticale. E poi vado a prendere quest'altro punto. Dunque, una riga qui e una riga qua. Questa qui è verticale e questo, control, questo, dovrà essere 90 gradi. Questo qui lo tolgo. E semplicemente vado a aggiungere di nuovo questo, control, questo, deve essere lungo l'asse Y. A questo punto vado a quotare da questa riga a questa e metto, per esempio, 90. A questo punto ho creato una specie di tavola rotante con questi tre angoli. E dunque qua posso fare, per esempio, 90. Questo posso fare 90. 90 e questo posso, per esempio, metterlo su 90. Dunque con un piano parallelo al pavimento. O se no, posso fare questo qui, 180. E si gira di 90 gradi rispetto a prima. E questo qua, per esempio, posso farlo 45. E posso, magari, questo qua, farlo tornare a 90 come era prima. In questa posizione, o per esempio, posso fare questo, torna a 90. Torna a 90. E questo qua, invece, va a 45, per esempio. Ok. Posso anche portarlo di nuovo. Vediamo se riesce a zero. Ok. Ok. Ok.